Più di 90 eventi, tutto è ingresso gratuito per Pesaro, i tuoi spazi, tra borghi e quartieri. Dal 20 giugno al 21 settembre torna per la quarta edizione la proposta del Comune di Pesaro volta a valorizzare i quartieri e l'intero territorio comunale attraverso la cultura. Letture per grandi e bambini, burattini, teatro di strada, musica e tanto altro per un progetto che coinvolge tutte le età e che è stato realizzato in collaborazione con Amat e Pesaro Segreta. Questa iniziativa sparsa nei quartieri e nei borghi nasce da prima, nasce dal 2019 quando abbiamo voluto mettere un'attenzione nuova e specifica in questo nuovo mandato in tutto quello che accade o che si poteva far accadere nei borghi e nei quartieri della città che rappresentano una grandissima vivacità culturale non solo ma anche paese registrica e spesso anche monumentale, quindi letture, teatro per ragazzi, laboratori, tutto quello che contribuisce anche con la partecipazione dei quartieri che producono i loro contenuti, ne chiedono altri, insomma collaborano tra loro anche in delle produzioni, tiene assieme non solo la cultura ma la sala dei quartieri, quello ai borghi e anche la presidenza del Consiglio Cunale che partecipa su specifici progetti. Sono decine di serate, in genere cerchiamo di non stare nel weekend che è già abbastanza compresso anche di eventi in centro ma per poter vivere il proprio quartiere in maniera partecipata, a misura di famiglia e anche dare spazio attraverso questo a artisti e creativi del territorio che è una delle finalità per un'estate non alternativa ma assolutamente integrata con la programmazione dei grandi festival.